Ciao Ryan! Ciao Eleonora! Ho bisogno del tuo aiuto per far colpo sul pubblico col mio sguardo. Per uno sguardo di impatto, ma soprattutto per ciglia da star, utilizzo XS Volume Mascara di Max Factor. La prima è una formula volumizzante che intensifica le ciglia garantendo un volume estremo. La seconda invece è una lacca che sigilla e lucida le ciglia per un look che dura tutto il giorno, grazie a XS Volume Mascara di Max Factor. Grazie Ryan e grazie a Max Factor, The Makeup of Makeup Artist. In scena! Volete partecipare ad una Masterclass con me per scoprire tutti i segreti del mondo del make-up? Andate sulla nostra pagina Facebook per saperne di più.